Salve e benvenuti al The Blow Show. Oggi parleremo di un tema che probabilmente nei prossimi anni diventerà l'argomento per speculazioni, cospirazioni e salotti televisivi. L'euro digitale o CBDC. CBDC sta per Central Bank Digital Currency. Questo naturalmente sempre se ci arriveremo, perché continuando di questo passo non darei la cosa per scontata. Cos'è il CBDC? Come funziona? Quali sono i vantaggi? Gli svantaggi? E come potrebbe cambiare la nostra vita per sempre? Sigla! Per semplificare il concetto, una valuta centralizzata come l'euro e il dollaro viene gestito esclusivamente dalla rispettiva banca centrale che stabilisce il taglio, la quantità di denaro in circolazione, le modalità di scambio e di transazione. Con le criptovalute il paradigma è stato capovolto e Bitcoin ha dimostrato che è possibile creare una moneta accettata da tutti in grado di fungere sia da mezzo di scambio che da riserva di valore. Infatti, molti definiscono Bitcoin come l'oro digitale. Ora, non voglio entrare nei tecnicismi, ma in breve Bitcoin e simili non hanno una banca centrale alle spalle. Quindi le regole, la quantità di moneta in circolazione, le modalità di scambio, i registri che conservano e validano le transazioni, sono tutti decentralizzati e regolati da uno smart contract. Questo smart contract è un contratto intelligente che non è altro che un software che contiene tutte le regole e tutti i meccanismi di una determinata criptovaluta. Le banche centrali, che hanno già perso il primo treno delle cripto, adesso vogliono salire sul carro della moneta digitale. La Cina si è già portata avanti e presumibilmente anche noi, nei prossimi due anni, avremo a che fare con l'euro digitale. E se diamo ascolto alla banca centrale europea, l'adozione dell'euro digitale porterà notevoli vantaggi per tutti. Partiamo dalla base. L'euro digitale vuole essere l'equivalente delle banconote o delle monete, però in forma digitale. L'euro digitale verrà emesso dalla banca centrale europea e, dalle dichiarazioni ufficiali, questo non dovrebbe sostituire l'euro cartaceo o le monete, ma rappresentare semplicemente un'ulteriore alternativa. Ancora non è chiaro se si baserà sulla tecnologia blockchain, se questa sarà pubblica o privata, però per adesso questo è un aspetto secondario, però magari ci ritorneremo in seguito perché, dal punto di vista della governance, la tecnologia utilizzata ci dà sempre un'indicazione di dove andremo a parare. Una delle caratteristiche fondamentali è che, a differenza delle criptovalute decentralizzate, dove nessun ente può garantire il valore della moneta, nel caso dell'euro digitale avremo mamma BCE che garantisce per tutti. Questo è sicuramente un vantaggio dal punto di vista dell'utilizzabilità, perché mentre le criptovalute decentralizzate hanno una volatilità estremamente elevata, che rende difficile l'utilizzo delle stesse per le transazioni quotidiane, l'euro digitale sarebbe stabile perché appunto è uno a uno con l'euro cartaceo. E in teoria per noi non cambierebbe nulla. Già adesso molti di noi utilizzano la carta di credito o lo smartphone per pagare, per cui già utilizziamo una moneta digitale e non cartacea, ma l'euro digitale avrebbe una caratteristica che lo renderebbe molto più efficiente. Non ci sarebbe più bisogno del clearing quotidiano, quindi la riconciliazione delle transazioni. Il trasferimento dei pagamenti avverrebbe istantaneamente. Spiego brevemente il concetto di clearing. Attualmente, quando noi paghiamo con un bonifico o con la carta di credito, c'è un passaggio dalla nostra banca alla banca del venditore, con un passaggio intermedio che è appunto il cosiddetto clearing. Il meccanismo è che la nostra banca raccoglie tutti i bonifici di una giornata fino a una determinata ora, poi tutta la somma viene trasmessa alla banca centrale che riconcilia tutti i trasferimenti e poi accredita le somme il giorno successivo. Attualmente questa transazione avviene entro un giorno lavorativo e viene mediata dalla banca centrale di ogni rispettiva nazione, mentre con l'euro digitale dovremmo avere un wallet dedicato, quindi un portafoglio elettronico, e da lì il pagamento sarebbe istantaneo, quindi da wallet a wallet senza passare dalla stazione del clearing. Il pagamento istantaneo potrebbe essere realizzato in maniera nativa in tutta l'area euro, quindi questo renderebbe anche i pagamenti all'estero immediati e privi di commissione. Vi anticipo in breve il concetto. Mentre l'euro attuale è un bene fungibile, nel senso che è impossibile distinguere un euro dall'altro, per cui se voi rubate questa banconota, la mia famosa paghetta da 5 euro, io non ho la possibilità di identificarla, mentre l'euro digitale, che è programmabile, avrà tutta una serie di metadati, per cui sarà possibile aggiungere tutta una serie di attributi, che de facto rendono ogni singolo centesimo non solo identificabile, ma anche tracciabile in ogni singola transazione in tutta la sua storia. Quindi se a pancia siete già scettici o un po' preoccupati, rimanete con me perché la cosa diventerà ancora più interessante. Parliamo di protezione dei dati. La BCE dice che l'euro digitale proteggerà la nostra privacy perché implementando un clearing automatico e diretto tra wallet e wallet, le banche non avranno più accesso alle nostre transazioni e quindi disporranno di meno dati con cui monitorarci o controllarci. E questo, da un lato, potrebbe essere anche visto come un attacco frontale alle varie carte di credito, quindi Visa, Mastercard, American Express, che sono tutte americane, incassano una provvigione su ogni pagamento e in pratica spostano semplicemente soldi avanti e indietro. E come bonus hanno anche accesso a tutti i dati di tutte le nostre transazioni, dati che sono preziosissimi, che vengono sfruttati per tutta una serie di scopi che fanno venire il mal di pancia a chi si occupa di privacy e protezione dei dati personali, mentre con una transazione wallet su wallet l'intermediario non sarebbe più necessario. Naturalmente questa è ancora un'ipotesi, ancora non si sa come verrà implementato il tutto e quale sarà anche il ruolo delle singole banche, perché è un po' difficile immaginare che il wallet venga gestito direttamente dalla banca centrale, ma tutto è possibile, spiegherò anche perché questa ipotesi potrebbe avere un senso. Proprio in questi giorni si sta discutendo, a livello di legislazione europea, di eliminare la possibilità di wallet cosiddetti self-hosted, ossia completamente decentralizzati e anonimi. Per esempio, attualmente è ancora possibile creare un wallet che non sia gestito da un intermediario, come per esempio Coinbase o Binance. Se si vuole essere completamente indipendenti, si può creare un cosiddetto cold storage, dove tu puoi conservare in assoluta autonomia le tue criptovalute, senza bisogno di una banca o di un intermediario. Tu, utente, hai accesso tramite la tua chiave privata alla tua posizione sul registro della blockchain e questo corrisponde, dal punto di vista concettuale, ad avere una cassaforte in casa dove conservi tutte le banconote. E pare che questa libertà non stia molto a genio alla BCE. Ma torniamo alla lista dei potenziali vantaggi. Una potrebbe essere l'integrazione con l'IoT, quindi con l'euro digitale sarà più facile implementare sistemi di pagamento machine to machine, ossia macchina a macchina o oggetto ad oggetto. Uno dei classici esempi è il frigorifero intelligente, che ha un proprio wallet, che ha delle regole predefinite, quindi può ordinare online la spesa da solo. Oppure l'auto a guida autonoma, magari in proprietà condivisa, che va alla stazione di ricarica, paga con il proprio wallet dedicato, senza che la mia carta di credito e il mio conto corrente appaia in questa transazione. Un ulteriore vantaggio è che l'euro digitale consumerebbe molto meno corrente rispetto alle criptovalute decentralizzate, e perché queste ultime richiedono una miriade di nodi per funzionare e che consumano tantissima corrente elettrica, perché appunto minano H24 e quindi, a detta dei detrattori, influiscono negativamente sul clima e sugli equilibri energetici. La lista dei vantaggi è sicuramente allettante, e voi vedrete che prossimamente i media testeranno le lordi dell'euro digitale e cercheranno di indorare la pillola. Però queste innovazioni nascondono sempre la suppostina, perché chi controlla il danaro controlla il mondo, quindi sarebbe da sciocchi o da ingenui credere che chi sta nella cabina di comando abbia a cuore o perlomeno abbia come priorità numero uno gli interessi di noi semplici cittadini. Quindi è bene analizzare i potenziali rischi dell'adozione di una moneta digitale e della progressiva eliminazione del contante. Non a torto, Dostoevsky diceva che il denaro è libertà coniata. Se guardiamo la politica monetaria degli ultimi decenni, è la palissiano che questa abbia sempre favorito i pochi a discapito dei tanti. Quindi già di default c'è da fidarsi poco. Ma con l'euro digitale, il sistema bancario avrà un potere sul denaro che supera di ordini di grandezza la situazione attuale. Ma prima di entrare nel dettaglio dell'euro digitale e delle prospettive future, io vorrei fare un breve excurso su un evidente punto debole della moneta digitale, inteso tutto quello che non è danaro contante. Partiamo dall'esempio del Canada. Recentemente ci sono state le proteste in larga scala sulle misure draconiane sul Covid. Senza voler entrare nel dettaglio delle singole misure, su chi avesse ragione o torto, e io così per trasparenza ero dalla parte dei camionisti, vorrei illustrarvi come il governo abbia utilizzato il proprio potere di applicare restrizioni finanziarie per fermare le proteste. Durante le proteste, decine di miliardi di camionisti hanno bloccato le strade del Canada e in particolare la capitale Ottawa. E nonostante i forti disagi, la popolazione era largamente a favore della protesta. Il governo ha cercato di opporsi alle proteste con multe, minacce e arresti, però i camionisti hanno tenuto duro, anche perché la popolazione ha dato tutto il supporto logistico, portando anche cibo, bevande, però soprattutto con donazioni in denaro. I cittadini canadesi, attraverso le classiche piattaforme di crowdfunding, hanno raccolto milioni di dollari per sostenere gli scioperanti. Quindi il governo canadese in una prima fase ha bloccato le donazioni. Queste somme, che erano state convogliate in questo fondo, non erano più accessibili. In una seconda fase, il governo canadese ha utilizzato l'artiglieria pesante e ha congelato i conti di chiunque contribuisse allo sciopero, sia i conti privati che quelli aziendali. E in questo modo, togliendo alle persone la possibilità di sopravvivere, la protesta è stata smantellata. E ora, immaginate la stessa situazione da noi. C'è una protesta, che non è gradita al governo, voi magari contribuite con 20-50 euro, e senza alcun preavviso, senza alcun processo, vi bloccano tutti i conti e le carte di credito. Quindi non avete più la possibilità di fare la spesa, pagare l'affitto, il mutuo, le bollette, nulla di nulla. Io non so come siete vessi voi, però in casa ho pochissimo contante, ho soli 5 euro addosso, e in una situazione del genere potrei sopravvivere al massimo un giorno. E qui stiamo parlando non di un regime autocratico, ma del Canada, un governo che fino a ieri era visto come una democrazia al top. E qui noi vediamo una simmetria, una sproporzione di forze, una sproporzione di forze assolute in favore del governo e in sfavore dei cittadini. Perché per me, quando una lotta è leale, entrambe le forze devono avere una pervenza di armi pari. Mentre in questo caso, solo una parte poteva, anzi ha potuto, anzi ha ristretto l'autonomia finanziaria dell'altra parte. E da questo esempio del Canada, arriviamo all'euro digitale o al CBDC. L'euro digitale eliminerebbe immediatamente il primo e forse fondamentale vantaggio, addirittura quello che potremmo definire la colonna portante delle criptovalute, ossia la decentralizzazione. Il potere su questa valuta non sarebbe più nelle mani della community che lo sostiene e che lo utilizza, bensì delle banche centrali e dei governi. Attualmente tutte le maggiori economie hanno pianificato l'introduzione del CBDC e quindi possiamo dare per scontato che questa innovazione arriverà anche da noi. Se volessimo identificare il punto debole o dove casca l'asino, potremmo riassumerlo in una sola parola, che il CBDC è programmabile. Quindi un euro non sarebbe più semplicemente un euro, ma è un pezzo di software al quale tu puoi attaccare tutta una serie di regole e automatismi e questo dà all'emittente un potere quasi illimitato. Nel momento in cui il danaro è digitale e programmabile, qualsiasi regola e restrizione può essere imposta in maniera estremamente veloce, semplice e pervasiva. Vi faccio alcuni esempi. In tempi di crisi economica o di incertezza sul futuro, il cittadino ha la tendenza a spendere di meno e a risparmiare. Dal punto di vista macroeconomico, il governo invece vorrebbe che tutti spendessimo di più, in maniera appunto da far girare l'economia. Ricordo ancora i tempi dell'università quando la maggior parte di voi millennial era ancora un sogno d'amore. Il professor Caserta, che saluto, ci spiegava una teoria secondo la quale un denaro a scadenza potrebbe stimolare o avrebbe potuto stimolare l'economia. Immaginate di guadagnare 1000 euro al mese. Se arrivate a fine mese e vi rimangono 200 euro, attualmente voi avete la possibilità o di metterli da parte o di spenderli il mese successivo. Secondo questa teoria, il denaro scadrebbe e quindi 200 euro sparirebbero e non potrebbero essere né messi da parte né spesi il mese successivo. Per cui il cittadino avrebbe tutto l'interesse a spendere fino all'ultimo centesimo entro la fine del mese. E in questo modo, come si dice in gergo, il soldo girerebbe e stimolerebbe l'economia. Questa teoria è impossibile da mettere in pratica con il contante, è difficile da implementare con l'attuale moneta digitale, però sarebbe facilmente fattibile con una valuta programmabile. In altre parole, il governo potrebbe forzarci ad eseguire un ordine, ossia spendere e non mettere nulla da parte. Questo con un semplice click senza doversi sporcare le mani. E noi non avremmo alcuna possibilità di opporre resistenza. Alcuni di voi magari diranno eh beh, la solita cospirazione. Purtroppo no, perché questa funzionalità è già stata testata in Cina durante le recenti Olimpiadi e se vi interessa anche approfondire l'aspetto teorico, cercate i termini Schwundgeld, Silvius Gesell e Rudolf Steiner. Oppure seguite la pagina del professor Maurizio Caserta della gloriosa Università di Catania Facoltà di Economia. Poi c'è un altro aspetto che posso illustrare con un esempio banalissimo. Da bambino i miei nonni mi davano le classiche mille lire con la raccomandazione di comprarmi un panino. E a volte compravo il panino, a volte li spendevo ai videogiochi, a volte li mettevo nel salvadanaio. Insomma, gestivo queste mille lire in piena autonomia e la raccomandazione dei miei nonni era semplicemente una raccomandazione. Con il CBDC il governo invece può stabilire una regola ben precisa su cosa io possa comprare con i miei soldi. Se ricordate, una cosa simile avviene con il reddito di cittadinanza non necessari. Voi direte in questo caso è una cosa buona e giusta ma quando invece si tratterà dei vostri soldi guadagnati con il vostro sudore si aprono scenari molto sconvolgenti e preoccupanti. Adesso si parla molto della riduzione delle emissioni di CO2 e dell'introduzione di una quota personale di emissioni. Diversi politici opinion maker dell'ala oltransista dell'ambientalismo stile Friday for Future Greta e compagnia cantante propongono proprio una quota personale di CO2 e secondo questa teoria ognuno di noi dovrebbe avere una quota di CO2 da spendere in riscaldamento carburante viaggi carne eccetera e una volta che hai superato la tua quota non puoi più consumare quindi scordatevi di volare ad Ibiza per andare a Pascha o di consumare due ribeye steck alla settimana una bistecca al mese basta. Il governo può decidere in maniera capillare e dettagliata quello che noi possiamo consumare o meno e la storia ci dimostra che quando si prende questa strada l'aspetto malefico prevale sempre e per chi ha un'impostazione liberale questo è un incubo perché io penso anche voi io voglio avere la libertà di spendere i miei pochi soldi come voglio e ci sono tanti ulteriori esempi per come quest'arma potrebbe essere applicata contro di noi e basta guardare a cosa avviene in Cina oggi per capire quello che arriverà da noi domani. La Cina oltre a essere la nazione più avanzata per l'introduzione del CBDC anche la nazione che ha la sorveglianza digitale assoluta sui suoi cittadini è un sistema di censura capillare per esempio la Cina ha già adottato il sistema dei crediti sociali dove il cittadino ha un ranking e con il suo ponteggio sociale se fa qualcosa che il governo reputa disdicevole per esempio che sono criticare il governo ecco che ti viene ridotto il credito sociale e tu cittadino vieni limitato nei tuoi diritti per esempio non puoi viaggiare in aereo o con il treno veloce non puoi richiedere il passaporto e tante altre restrizioni e avendo anche il controllo sulla qualità del tuo danaro potrebbe implementare delle misure educative tipo che i tuoi soldi possono essere spesi solo per comprare pane e acqua fino a quando non hai scontato la tua pena magari molti penseranno che questo possa avvenire solo in Cina ritornando all'esempio del Canada passata l'emergenza della protesta dei camionisti il governo sta pensando di implementare questo tipo di restrizioni in maniera sistematica quindi limitando severamente le libertà civili dei cittadini che verrebbero colpiti da questi provvedimenti se noi ascoltiamo bene i nostri governanti e i nostri politici questo modello cinese la società del controllo magari in forma un po' più light viene vista di buon occhio da molti e addirittura ritenuta un male necessario per gestire questa fase storica e io credo che se il governo dovesse avere la possibilità e la capacità di controllare il nostro danaro in maniera così pervasiva questo potere prima o poi verrà utilizzato contro di noi tu sei contro il governo protesti scioperi un click wallet disattivato o ristretto solo ai beni di prima necessità magari adesso chiederete esiste una soluzione per prevenire o evitare questo futuro forse sì e se ritenete che questo tema meriti di essere conosciuto e discusso lasciate un like al canale condividete il video e lasciate anche il vostro commento io sono molto interessato a conoscere la vostra opinione e risponderò a tutti torniamo alle soluzioni una potrebbe essere quella di utilizzare una delle tante valute decentralizzate che attualmente già esistono o altre che verranno valute gestite dalla comunità e quindi assolutamente democratiche e quindi non gestite da un ente centrale le soluzioni attuali sono già sicure e inclusive e ognuno di noi se vuole può accedervi quindi se anche voi credete che i CBDC siano uno strumento del governo per imporre un controllo ancora più invasivo e capillare nelle nostre vite l'unica cosa che noi possiamo fare nel momento in cui questa innovazione verrà introdotta o proposta è quella di non utilizzarla di boicottarla e magari concentrarsi su metodi alternativi per utilizzare spendere transare o risparmiare i nostri soldi per farla breve votate con il vostro portafoglio e speriamo che il buon vecchio contante rimanga con noi per ancora un po' fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei CBDC se lo adottereste o meno lasciate un like al canale e ci vediamo alla prossima ciao only on the blow show so here we go e ci vediamo alla prossima